E' tornata, dopo 205 giorni. Andiamo a casa. Letizia Petris, icona del grande fratello, finalmente torna alla vita quotidiana, dopo un soggiorno di quattro mesi nella casa più discussa d'Italia. Ieri, la giovane influencer è stata accolta a braccia aperte dai suoi amati amici a quattro zampe, che hanno dato vita a un emozionante incontro all'ingresso della sua dimora, nata l'8 giugno 1999 sotto il segno dei gemelli a Riccione, nell'incantevole regione dell'Emilia Romagna. Letizia ha sempre fatto parlare di sé sin dai suoi anni adolescenziali. La sua passione per la fotografia è nata in quegli anni turbolenti, e nel corso del tempo è cresciuta fino a diventare una vera e propria professione. Nel 2019, Letizia ha colto l'opportunità di trasformare la sua passione in un lavoro a tutti gli effetti, grazie anche alla collaborazione con il famoso rapper Emanuele Caso. Oltre alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, Letizia è anche conosciuta per la sua personalità vibrante e il suo stile unico, che ha catturato l'attenzione di migliaia di fan. Ora, dopo l'esperienza nel reality, Letizia è pronta per affrontare nuove sfide, e continuare a stupire il suo pubblico con la sua energia contagiosa e la sua creatività senza limiti.